Edono Fighters, sono Fire, benvenuti, anzi magari dovrei dire ben ritornati nella serie della Fire Review, ovvero il miglior componente al minor prezzo. Ed oggi, come avete letto dal titolo, andiamo a recensire la migliore tastiera da gaming economica. Qui nella in alto a destra sono già usciti dei video riguardanti questo argomento, ma ovviamente a man mano che escono nuove tastiere oppure che ci sono delle nuove proposte, vado ad aggiornare il video per dirvi effettivamente con il minor prezzo quella della migliore tastiera. Ed oggi infatti siamo qui proprio per questo, ma come al solito tutto questo dopo la nostra sigla. Ebbene finalmente siamo qui tornati in questa serie, era un sacco di tempo che mi mancava recensire un prodotto di questo genere e finalmente sono riuscito a trovarne uno per portarvi il video. Ma ovviamente prima di cominciare con il video vorrei invitarvi a passare dal link qui sotto nella descrizione al mio canale di Twitch, dove ogni sera alle 8 faccio una live streaming in cui gioco. E posso assicurarvi che c'è il 90% di divertimento e cretinate e il 10% di videogiochi. Quindi se volete farvi qualche risata e supportarmi anche sul mio canale Twitch trovate il link qui sotto. Ebbene direi di cominciare dicendovi qual è la tastiera di cui parliamo oggi, ovvero la Tras GXT Asta. Eccola qua. Questa tastiera mi ha convinto veramente tanto, così tanto che vi dirò il prezzo solamente al fine video. Cominciamo parlando della cosa che mi ha convinto più di tutte fin dal primo momento che l'ho presa in mano, ovvero i materiali. A differenza di tutte quante le tastiere meccaniche che ho potuto provare fino alla dura, questa tastiera qui ha dei materiali veramente top per il prezzo che ha, ma soprattutto è pesante. Cioè, si sente che la tastiera è piena, si sente che la tastiera è resistente. La tastiera, come potrei vedere, su questa parte frontale qui ha una lastra in alluminio, quindi è resistente in questa parte qui, ed è circondata attorno da una plastica che non è assolutamente cheap, anzi è una plastica molto, molto resistente. Fatto che infatti ragazzi è molto, molto dura. Il rumore che va a fare, come potete sentire, è un rumore molto pieno, perché infatti là è completamente piena la tastiera, non è all'interno cava. Questo va a dare un grosso, ottimo voto alla resistenza, perché questa si preannuncia come una tastiera veramente resistente. Un'altra cosa che mi è piaciuta veramente tanto sono proprio i keycaps, che a differenza della scorsa tastiera da gaming meccanica, hanno una sorta specie di patina superiore al keycaps, che è veramente strana, perché dà una sensazione di grip al tatto veramente ottima. Cioè, quando l'andate a toccare, quando a toccare i keycaps, vi sembra effettivamente che il vostro dito sia quasi attaccato, cioè che si mantenga molto bene sul keycaps. E quindi questa cosa qui è un grosso punto a favore, perché vi permette di poter giocare, senza che magari le vostre dita scivolino dal tasto. Vi dirò, dopo vari tentativi, quando vai a cercare di schiacciare il tasto, quindi magari di cercare di piegarlo e romperlo, effettivamente tende a non deformarsi, cioè non riesci proprio a piegarlo, perché è resistente, è molto 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 più ripieno rispetto agli altri tasti. Altro punto a favore, ha degli switch rossi lineari, molto 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 silenziosi, rispetto per esempio agli switch dell'MK6? Onestamente non vi so dire che switch siano perché non è specificato da nessuna parte, ma dalla sensazione che mi danno assomigliano tantissimo ai cherry red, e molto poco per esempio agli Udemu, quindi penso che probabilmente siano o un'imitazione di alta qualità, o addirittura proprio dei cherry che non sono stati specificati. Ma da quello che intravedo non mi sembrano dei cherry, quindi ipotizzo una copia di alta qualità. Andiamo al cavo che come potete vedere è in treccia ed è circa lungo 2 metri, ed ha una feature molto bella che dà una grossa qualità, ovvero che come potete vedere la USB è protetta, ha un tappino per la protezione che andate a togliere, e che non perdete perché è attaccato al cavo, quindi effettivamente vi rimane con voi. E posso dirvi che questa qui è una cosa ottima, perché mettete a caso, magari dovete spostare la stile, dovete tenerla tanto tempo, magari senza la protezione, o magari quando l'acquistate non c'è una protezione, quindi sta per tanto tempo, ferma, senza avere una protezione qui, magari polvere e altri agenti, materiali, possono andare a dar fastidio alla vostra USB. E questa è una cosa veramente ottima questa protezione, e tra l'altro oltre ciò ha anche una protezione qui sul cavo di questa parte qui, che permette effettivamente alla tastiera di evitare di rompere il cavo, quando lo andate a piegare, perché questa parte qui finale, quella ovvero del connettore, non si piega perché è protetta da questa parte dura. Adesso andiamo alle funzionalità di questa tastiera, perché come avete visto effettivamente ha degli switch rozzi, lineari, che sono molto silenziosi. Infatti faccio sentire il tasto. Ragazzi, sto cercando di avvicinare il più possibile al microfono, sperando che si senta, ma non vedo una grande onda che sta uscendo dall'interno del microfono, quindi vabbè, non importa. Ha una velocità di battitura praticamente uguale a quasi tutte le tastiere meccaniche russe, che sono riuscito a trovare. L'unica differenza l'ho trovata con l'MK6, quindi la scorsa tastiera meccanica, che era anche per metà ottica, e quindi era leggermente più veloce, e quindi sono riuscito a scrivere tipo 10 lettere in più su un minuto. Quindi veramente qualcosa che è infinitamente in nullo praticamente. Quindi non è un qualcosa che tu dici, vabbè, sono 100 lettere in più, 200 lettere in più, quindi mamma mia è velocissima. No, siamo sempre lì comunque. Altra funzionalità, ovviamente la tastiera è LED, e ha tanti short tramite l'FN e i vari tasti che ci sono, ma viene fornito un tasto extra, e anche delle due funzioni in particolare, che servono per controllare i LED che ha la tastiera, che è questo tasto qui, che quando lo clicchi senza dover cliccare effettivamente l'FN, vi cambia la funzione di colore. E poi con l'FN potete andare a utilizzare magari più o meno luminosità, meno luminosità, o più veloce o meno veloce del cambio di transizione dell'effetto di colore. Come anche l'MK6, questa la stiera qui ha il selettore del cavo, deve metterlo qui, oppure potete farlo passare qui in mezzo in questo modo, e poi mettere effettivamente il cavo dall'altro lato, in modo da dargli un'uscita pulita, e non avere il cavo sparso per la vostra scrivania. Ma una cosa che mi ha lasciato veramente stupito di quando ho visto questa tastiera, come potete vedere, è il fatto che hanno trovato uno spazio incavato nel quale si va a mettere il prendi tasto, che è una cosa veramente ottima, perché può servire veramente un sacco di volte avere questo prendi tasto, soprattutto per una tastiera come questa, che ha i tasti molto stretti fra loro, e quindi sono difficili da prendere, e fornirlo in una tastiera così tanto economica è qualcosa veramente di ottimo, ma soprattutto fare uno spazio apposito sotto la tastiera per conservarlo e quindi per non perderlo mai è qualcosa veramente di ottimo, perché tipicamente te lo danno, magari lo metti in un cassetto, o da qualche altra parte, ti scordi dove l'hai messo, e addio non ce l'hai più, come se non ce l'avessi avuto effettivamente. Invece in questo modo tu hai sempre il prendi tasto con te. Ma adesso vorrei spendere qualche minuto per la bellezza, perché infatti come potete vedere questa tastiera è veramente veramente bella, però ha anche una grande pecca riguardante la bellezza, ovvero il fatto che questa tastiera non è RGB ma è LED colorata, ovvero i LED, le strisce che ci sono qui di LED hanno dei colori standard che puoi andare a personalizzare la loro accensione, puoi andare a personalizzare personalizzare la luminosità, la velocità, eccetera, eccetera, tutto quanto dalla tastiera, tramite un software da tastiera veramente ottimo, che ha proprio la tastiera di suo, quindi non c'è bisogno di installare un software esterno, ma ha la grande pecca che non è effettivamente RGB, rispetto invece ad altri suoi competitor, che però magari per lo stesso prezzo non vi danno la qualità totale di quello che vi dà questa tastiera. Quindi direi che effettivamente che anche se non è RGB questa tastiera, glielo lasciamo passare, perché per quanto la andiamo a pagare ne vale comunque la pena. Vorrei spendere giusto due parole per il packaging che è stato veramente fatto bene, ragazzi, la tastiera è scatolata veramente bene, è protetta molto bene, e inoltre ci vengono fornite sia delle istruzioni che sono estremamente chiare e che ci fanno capire tutti i suoi shortcut che ha e che ci dice come effettivamente effettuare la sua customizzazione direttamente dalla tastiera. E oltre a ciò ci sono fornito pure uno sticker della Trust che possiamo andare ad attaccare da qualche parte dove meglio vogliamo, sul nostro computer, oppure sul muro, sul monito, sul monito proprio no, però da qualche parte così in generale. Ma quindi arrivando alle conclusioni, ve la consiglio oppure no questa tastiera? Ma ragazzi, ovviamente sì, questa tastiera ha un prezzo veramente ottimo, veramente da rivale assoluto per qualunque tastiera sul mercato, ovvero costa appena 40 euro, un prezzo veramente, veramente, veramente economico, che va a dare uno schiaffo all'MK6 che era la migliore tastiera meccanica a 54 euro, mentre questa invece vi va a dare delle feature in più con materiali migliori, con un costo minore, ovviamente non è RGP ma sti cavoli, perché per essere una tastiera economica di appena 40 euro ha una qualità veramente elcelsa. Bene ragazzi, come al solito spero che questo video vi sia stato utile, come al solito lasciatemi un bel like e magari un bel commento qui sotto con scritto la prossima tastiera meccanica che dovrò recensire. Ovviamente ragazzi recensisco del tastiere che è possibile acquistare su Amazon. Oltre a ciò vi invito ovviamente a passare dal mio canale di Twitch che trovate qui sotto nella descrizione. Se vi interessa questa tastiera ovviamente trovate sempre il link all'acquisto qui sotto e mi raccomando non dimenticarti di iscriverti a questo canale. Quindi per oggi come al solito qui da Fire è tutto, passo e chiudo!